ciao a tutti grazie per aver scelto questo video io mi chiamo Federica e questo è il mio canale feri ASMR benvenuti in un video dedicato a rilassamento durante questo video parlerò con un tono di voce molto molto basso e molto probabilmente non riuscirete a comprendere tutte le parole che dirò questo perché voglio utilizzare una delle tecniche più amate dell'ASMR l'inaudible gibberish dovreste indossare le cuffie oppure gli auricolari giù in descrizione trovate anche un link affiliato per l'utilizzo di un paio di cuffie davvero molto molto comode a fascia che possono essere utilizzate anche mentre si dorme l'altro consiglio infatti è quello di distendervi di mettervi comodi perché molto probabilmente al termine di questo video vi sarete addormentati spero comunque che possa riuscire a farvi provare un po' di solletico sulla testa i tingles se questa idea vi piace non dimenticate di farmelo sapere lasciando un mi piace e soprattutto iscrivetevi al canale se volete vedere altri video di questo tipo iniziamo 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 quattro da trattare con tera ciotata l'importante è la te tutto 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 te solamente per te per te per te per te così di te con te con la crutina e sono unしゃeggero un maggiornoso un HyunBUD grazie facciamo l'accento di tecnici facciamo l'accento della grandezza che tricata che è l'accento di tecnici e poi facciamo l'accento di tecnici e poi facciamo l'accento di tecnici e la bragge con tecnici e la bragge con tecnici e après amicurarte e se continui il conto di garsi ma è possibile che l'accento della visita che ti mette a sé ma passi internazionali tecnici e con le alzate ciò che è diretto a dare con le alzate solitamente per te per te per te per te per te per te e qua va a te mangiare che se volete per te e qua si per te per te si se volete per te per te per te rinforzare che non ci sono niente problemi è soltanto rilassamento rilassati 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 tutto bene tutto bene tutto bene stante non voglio solare pensi dentro testi testi ora cominciamo qui forse potresti anche dire aspetti e soli testa ombre le frate ombre le pate ombre sul collo sul ombre non c'è nulla che può essere solo calmo calmo relax relax e la mia serenità sono già sicura come tutt'altra ecco ok quando ci sono fatte potremmo anche provare ad avere un conto da dire io sono sicura che quando direi l'opera ti tormenterai ti tormenterai perché è quello che desideri di più e io voglio solo che tu stai bene e che che non non ne non 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 7 2 7 7 4 3 2 3 4 5 6 5 6 7 8 8 10 12 12 12 13 12 13 14 15 15 15 16 17 15 15 15 16 17 18 18 18 19 19 19 19 20 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 21 19 20 20 22 20 21 20 21 22 20 22 22 buonanotte 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 ancora non c'è niente a passarebbe ma ancora c'è sempre e completamente rassicurato perchè non c'è assolutamente la completa ti accorgere le condizioni e quanto tutto sembra essere perduto in realtà è una bellissima grande eccetera e chiaramente che ti ricorda tutto anche quanto sia speciale questo anno è un grande agente è un grandissimo vedere che non può finire ancora adesso riposo riposo allora tutto l'allure faccio l'altro mi accoraggio e potrà anche tornare con l'ultima 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 biografia se volevi significhe spero che questo video ti sia piaciuto e che abbia sortito l'effetto desiderato fammi sapere nei commenti se hai provato il famoso breedingone della ASMR se ti sei rilassato o rilassata e ti lascio alla fine di questo video altri miei video che penso possono piacerti non dimenticare di iscriverti e di attivare la campanella per ricevere tutte le notifiche dei nuovi caricamenti e noi ci vediamo come al solito se ti va nel prossimo video bacini fatosi grazie